Hello guys! Vieni qui, almeno sarà tipo la nostra foto per il cammello. Maxi simulano cammello. Donde è che ci vedono? E' bene la luce o è brutto? Ma faccio la foto prima? E' brutta la luce. E guarda, la mia. Questa è un po' inizia, ma è una cosa che si parla. Questa è un po' inizia, ma è un po' inizia. La mia parte è un po' inizia. Questa è una cosa che si vede in balance. Wow! Vieni qui! Sì, non è vero. Ma sono molto più fatti, a me la la città. Vero, vero vero in più. Vero, vero vero in più. Vero, vero vero in più. Ebbai! Ebbai! My dad did a very... No, like a very... He take good pictures Look 10 to 10 Good job Bye-bye! My dad is tired I'm missing You're all red! Can you see your shirt? Yes! Go! Oh What do you think, Grazie? Where are you? 4 5 5 6 8 8 8 8 Non mi piace come guardo, ti faccio vedere, vedi che qua c'è troppo spazio? E vedi che qua c'è troppo spazio, ma le altre non mi piacciono, quello per forza è troppo da sotto, va bene anche così. Qua era bello però mi hai tagliato le storie. Allora, fotografo. Cosa immaginare? Ho imparato oggi. Ho imparato che la misura sopra deve essere più alta e giù è più meno. Ciao ragazzi, siamo pronti con le foto, perché mio padre è fatta e allergico. E il face è rosso. E ora, dove andiamo? We're going to? We're going to? We're going to basketball. He's going to play basketball, but I'm not sure of it because he's tired and I don't think we're going still. Subscribe to my channel and also to his channel Alex Malabano. Thank you for watching and bye-bye.